Carla Cantone segue Massimo D'Alema. Grazie. Insomma, in un mondo dove si sentono delle parole moderne, mi dicono, ascoltare le sue, a me mi si scalda sempre il cuore. Poi volevo ringraziarlo per questo riferimento da Arnoldo Foix. Era iscritto lo specigiel, punto. E scriveva sempre per la nostra rivista. Comunque, Gianni diceva che il congresso è finito, io dico speriamo. Speriamo per noi, per chi è qui e per chi non è qui. Speriamo che il congresso sia finito per la necessità che almeno io sento, quello di difendere un'idea di partito della sinistra nuova, riformista, di cui Cuperlo ci ha parlato. Solo alcune riflessioni. Io sono una sindacalista ed è un impegno che mi appassiona da sempre. Ho sempre scelto di fare la sindacalista e ho rifiutato più volte di candidarmi. A volte qualcuno nel sindacato mi dice, ma quella lì cosa vuole? Niente. Si può non volere niente e continuare a fare quello che si fa. E come ogni impegno sociale, sia nel sindacato che in un partito, metti nel conto che puoi incontrare tempi difficili. Il nostro lavoro non è mai semplice. Non ci sono dei momenti, ma ci sono dei momenti molto duri. E oggi è uno di questi. Questo periodo, uno di questi. Perché parlare di diritti di cittadinanza è difficile. E quando lo fai provochi un senso di fastidio. E quando metti al centro il lavoro ti senti dire, sei del novecento, aggiornati. Tutto questo succede perché c'è la crisi? Sì, certo. Perché c'è crisi di rappresentanza che vale per tutti, anche per noi, per il sindacato. Certamente. Perché c'è l'antipolitica? Sì, anche. Perché c'è qualunquismo, populismo? Sì. Questo determina la crisi della sinistra? Sì. È una situazione inedita? Forse. Ma vi sono stati momenti anche più difficili. Superate da tre condizioni che abbiamo provocato noi. La prima, che la sinistra, il partito, aveva un'idea profonda dei valori costituzionali. Aveva una presenza nel paese strutturale, un'organizzazione che ti consentiva di parlare con la gente. Sicuramente, non c'erano comitati elettorali personali. Non c'erano. E se c'erano, erano ben nascosti e quando si individuavano erano cavoli. Non c'erano tifoserie di interesse. Verso un liderismo sfrenato c'erano grandi leader. Che è una cosa diversa. Ma soprattutto, si conoscevano i dirigenti che il partito candidava. Quando dico si conoscevano, non lo dico personalmente, ci mancherebbe altro, eravamo così tanti. Dico che si conosceva la loro storia di persone coerenti, rigorose e oneste. Sì, anche oneste. Da qualsiasi esperienza politica, democratica arrivavano. E gli esterni erano una risorsa. Quante discussioni nelle sedi di partito. Vedo qui Romana Bianchi, che è stata la segretaria del mio partito, a Pavia. Discutavamo spesso, ma questo è un esterno, non era tessera, però aveva dei valori. Erano una risorsa nella cosiddetta società civile. Non erano i contribuenti della tua campagna elettorale. Oggi si trovano persone con la quale provi imbarazzo. La seconda. Il sindacato aveva anche loro i suoi limiti, i suoi errori, ci mancherebbe altro. Io li riconosco tutti. Ma riusciva a parlare con tanti giovani e lavoratori che non avevano paura di avvicinarsi al sindacato. Che non avevano paura di impegnarsi in politica. Perché non erano ricattati dalla precarietà a vita. Una precarietà che ti fa vivere eternamente nella paura. E quando io mi sento dire, vabbè, ma tu non sei moderna perché non sai che la precarietà è una risorsa, quando guardo in faccia queste persone mi rendo conto che loro non sono mai stati precari e non hanno figli precari. La flessibilità è utile, sì. Forse siamo in ritardo, anche noi. Nel sindacato, vedo qui Massimo D'Alemo, con il quale mi è capitato di discutere. La flessibilità è una necessità, sì. Forse ci siamo anche arrivati in ritardo anche noi, perché no? È utile, sì. Ma la precarietà è un disastro. C'è una differenza fra una flessibilità contrattata utile al nuovo mondo del lavoro e la precarietà a vita anche a 50 anni. La precarietà è un disastro. Dovrebbe sapere bene il ministro del lavoro, Poletti, che essendo si occupata di cooperative, la precarietà la conosce. La terza, non lui, i dipendenti volevo dire, i soci, i soci. E il terzo, penso che ci sia bisogno di una sintonia nei valori, fra la società civile e le organizzazioni sindacali, tutte, e la politica, i partiti. Valori che ho trovato nella relazione di Cuperlo, non un'oppa, eh, non un'oppa di uno sull'altro, ma autonomia dei ruoli, quello sì. Un'autonomia conquistata faticosamente, sia dal sindacato che dal partito e che va tenuta stretta. Io voglio essere autonoma nelle mie decisioni sindacali, ma confrontarmi con un partito che so che sui valori la pensa come me, poi posso dividermi sulla precarietà o la flessibilità. Ma quei valori ci uniscono, consentendo così questa autonomia di fare ognuno il proprio mestiere, ma su un campo di interesse comune. L'uguaglianza, la democrazia e i valori della Costituzione. La nuova sinistra democratica aperta. Ora c'è un PD nelle mani di un solo proprietario, che vuole annullare i corpi intermedi che sono costretti a stare in difesa. Dobbiamo uscire da questa situazione, per noi e per il Paese, parlo almeno per il lavoro che faccio. Il sindacato faccia la sua parte e ci stiamo provando, stiamo facendo il congresso. Ma il sindacato, senza una sinistra riformista, forte nel Paese e in Parlamento, non si rafforza, si indebolisce. Perché l'autoreferenzialità, che sento pretendere a volte o sentire anche dalle mie parti, è una debolezza. Per questo sono interessato a contribuire alla costruzione di un PD diverso. Proviamoci e guardate che chi non parte non arriva mai, è la storia del viaggio, che è più bella del tacchino se la leggi bene. A Renzi, dico solo due cose. La prima, puoi cancellare la concertazione, è tanto che non funziona, qui ha ragione Bersani, c'è stato un lungo periodo di Berlusconi, poi Monti, c'era un dialogo sociale finto. Quindi puoi cancellare la concertazione, però caro Renzi non cancellerai mai nel sindacato nei diritti dei lavoratori. Almeno ascolta quello che ha da dire il mondo del lavoro, tutte le organizzazioni, nessuno escluda. Se non la vuoi chiamare concertazione, chiamalo modello Giuditta. La seconda, che è toscano, viene da Benigni, magari gli suona meglio, piccolo diavolo. La seconda, attenzione, illudere con la velocità senza risolvere i problemi è molto pericoloso. Il decisionismo, la velocità a cui faceva riferimento Gianni, porta un immediato consenso, soprattutto in tempi di grande attesa e preoccupazione, di paura. Io li sento, io faccio sindacalista dei pensionati, si allunga la vita, 3 milioni di iscritti, mica po' di roba. Si allunga la vita e se tutti hanno la fortuna, dico sempre alle categorie degli attivi. Benvenuti allo spibo, dire che avete superato i 60 anni, se non li superano è un problema per loro, non per chi li ha già superati. Allora, io dico sempre, mi andrei a ridere da sola, che la velocità, dicevo, porta consenso. Io li sento, Montiazzani, che ti dicono, c'è bisogno di qualcosa, finalmente si muove qualcosa, soprattutto in attesa di crisi, dove c'è una grande preoccupazione. Ma se decisionismo e velocità non danno risultati, altrettanto veloci, veri, può succedere che il grande consenso si può trasformare in una grande conflusione e disorientamento per tutti. E se si cade, il tonfo fa un grande rumore. Sulle riforme, io sono d'accordo finito su quello che diceva Versani prima, sì, si facciano, si devono fare, le aspettiamo da anni. Il punto è come si fanno, con chi, per chi, contro chi e a favore di chi. E se si deve rimettere al centro il lavoro, lo si faccia. Ma non scambiamo per innovazione il mantenimento, l'aumento della precarietà. E non scambiamo per favore, per giustizia sociale, la distribuzione di 80 euro per chi lavora, e ringrazio Gianni per averlo detto, mentre per chi è in pensione non c'è bisogno di giustizia sociale. Sono 12 milioni i pensionati che vivono con meno di 1.500 euro netti al mese e sono l'ultimo ammortizzatore sociale di molte famiglie. 1.500 euro hanno lo stesso valore, sia perché è in pensione che al lavoro. E se si continua a considerare, l'ho fatto anche il PD nel sostegno un po' al governo, se si continua a considerare gli anziani un banco, ma è un peso, è un grave errore sociale e politico. Infine, io ho fatto la campagna per Gianni Cuperlo, insieme ad Andrea, a Bologna. Ci ho messo la faccia, si deve sempre fare così, troppo comodo, vai avanti a te che a me mi vien da ridere. Lo rifarei, lo dico sempre, ovunque mi trovo, quando mi capita di andare in tv, dove mi diverto tantissimo. Lo dico sempre, a chi, anche nel sindacato, nella CGL, è stato alla finestra a vedere come sarebbe andata a finire e che ora ci si meraviglia sul comportamento di Renzi. Io gli dico sempre, sono le primarie bellezza, io vi avevo avvertito. Grazie.